Sarebbe arrivata dopo oltre 40 minuti l'ambulanza chiamata nella tarda mattinata di ieri a riposto per soccorrere un uomo, un cinquantenne del luogo colto da un probabile infarto. Il mezzo di soccorso medicalizzato arrivava da lingua glossa. Gli altri erano impegnati altrove. Un episodio che ha scatenato nuovi vehementi polemiche sull'assenza di un pronto soccorso sul territorio. Il ritardo nell'arrivo dell'ambulanza naturalmente non ha nulla a che vedere con la presenza di un nosocomio efficiente, capace di trattare le emergenze, ma è incontestabile il fatto che l'uomo avrebbe potuto essere trasportato in altro modo al vicino ospedale e forse avrebbe potuto essere salvato. In sostanza la vittima avrebbe avuto una chance di farcela. Non così, non adesso, dove la possibilità di essere strappati alla morte in questi casi in cui i minuti fanno la differenza è legata solo ed esclusivamente alla presenza di un'ambulanza con medico a bordo disponibile. E monta la rabbia perché dei tanto annunciati potenziamenti dei servizi sanitari sostitutivi non si vede ancora l'ombra.